Jody ma quanto mi costi? Ma quanto mi costi? Io sono abbastanza fruibile signor Roberto Ceruti Ma c'è qualcosa che costa più di me suppongo Sì sì adesso andiamo a vederlo va Ciao a tutti ragazzi bentornati e bentornati qui su Due Pazzi per i Lego Un saluto da Roberto e dal signor Da Jody ragazzi ragazze Bentornati benvenuti qui su Due Pazzi per i Lego Grazie veramente grazie tantissimo Perché grazie al vostro supporto di ogni giorno A questa realtà che abbiamo creato io e il signor Roberto Ceruti Ci permettete di fare cosa? Di darvi questo sconto quale Roberto? Che sconto? Sì ok sì sì andate qui dal signor Big Man Un negozio fisico di Torino ma soprattutto online Che vi dà la possibilità di avere Lego Action figures, Funko Pop, giochi da tavolo Carte collezionabili e tutto questo come diceva Jody Col 15% di sconto ma solo ovviamente se siete iscritti a Due Pazzi per i Lego Link in descrizione e soprattutto ovviamente iscrivetevi a Due Pazzi per i Lego Canale YouTube e tutti gli altri social Anche perché il signorissimo Mi dica No volevo far notare questo fatto che nelle nostre statistiche di YouTube abbiamo notato che un sacco di persone guardano i nostri video senza essere iscritti al canale Ragazzi tanto comunque l'iscrizione al canale non è una cosa invasiva Tanto vi becchiamo No ma ci dà a noi una medica di capire quali sono i contenuti che più preferite Quindi se questo video vi piace iscrivetevi e noi faremo più video di questo tipo Assolutamente sì E di che cosa parliamo oggi? Di cosa? Parliamo di Kermit la rana Questo personaggio dei Mappets Ma che Kermit la rana? Parliamo dell'Arkbuster No in realtà non dell'Arkbuster e basta Ma oggi parliamo dei sette più costosi di sempre Facciamo una classifica dei dieci in assoluto most most expensive expensive Insomma ragazzi Ma signor Roberto Cerudi Vorrei chiederle anche al nome di tutti quanti gli ascoltatrici che ci ascoltatori Ma i sette più costosi nel senso dell'aftermarket o che hanno avuto il prezzo di listino più alto? No 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 Allora I sette che potevate comprare quindi non ci sono quelli esclusivi di Bangkok della fiera di San Diego No I sette che potevate comprare banalmente sul Lego Shop al prezzo di listino Ok? Tranquillo Quindi è una classifica dei listini più alti Sì insomma quello che vi costava comprarlo A parte che di quelli che guardiamo 9 su 10 sono ancora in commercio Quindi questo ci fa capire come stiamo andando assolutamente verso dei sette molto molto importanti Però sì proprio di quello andavamo a parlare Partiamo dalla decima posizione Sì insieme alla decima posizione Alc Buster 549 e 99 eurini È tanta tanta roba Andiamo a vedere così Per curiosità 4.049 pezzi C'è la licenza Marvel da pagare Tanti però hanno detto che era abbastanza fuori rapporto un po' di prezzo io trovo questo set eccessivamente costoso come lei già immagina sapete normalmente noi facciamo la differenza fra caro e costoso quando facciamo queste cose caro costa tanto a livello oggettivo costoso a livello di quello che vi propone l'oggetto caro guarda solo il fattore economico, quindi una cosa è cara una cosa invece è costosa se il prezzo è elevato rispetto al set stesso alla proposta che è quello che vi ha portato a casa quindi questo è proprio questo è proprio questo è costoso secondo me bravo, bravo, accettato grande, grande, poi guarda cosa ti ho proposto il colo serio quindi mi metto un attimo così colo serio, sì che tanto a te è piaciuto soprattutto no ma ha fatto schifo sì, sì a Romero mi hanno detto, io non ce l'ho ma mi hanno detto di questo set che è una noia da montare sì assolutamente ci sono tante di quelle ripetizioni ma roba di centinaia centinaia di ripetizioni veramente pallosissimo quindi tra le altre cose no, tra le altre cose a livello di pallosissimo noioso andate sul canale perché c'è una bellissima classifica anche dei set più divertenti per noi adulti a dei prezzi molto molto più economici quindi andate a guardarvelo 549 euro il colosseo ma non è finita qui stiamo sempre più lievitando il prezzo all'ottavo posto 599 euro il Razor Crest Star Wars allora però questo qua invece ti dico la verità signor Roberto Ceruti che mi piace molto di più dei primi due che lei mi ha mostrato sì assolutamente concordo e le dirò di più anche a livello di prezzo quello che diceva lei prima signor Jody Padulano abbiamo 6100 pezzi su una licenza di Star Wars su praticamente un UCS ad un prezzo assolutamente onesto sempre per il discorso che faceva questo secondo me è caro ma non costoso per esempio sì 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 esatto esatto assolutamente d'accordo poi andiamo avanti 629 cioè adesso Jody noi stiamo facendo una classifica e le stiamo facendo vedere ma stiamo stiamo dicendo di quei prezzi veramente allucinanti cioè non ci rendiamo conto ma stiamo parlando di 629 euro e 99 per 10.000 e un pezzo Torre Eiffel beh allora sinceramente questa è una super caponata di Lego è carina cioè rispetto a è bella sì 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 non mi dispiacque è una gran caponata di Lego perché è un set arrogante molto arrogante anche questo c'ha le sue ripetizioni ad libitum e c'ha dei pezzi che strutturalmente non sono proprio i più belli di questo mondo quindi secondo me a livello di bellezza fra quelli che hai mostrato adesso vince la Razor Quest su tutta tutta la linea però devo dire che comunque questo set insomma ha il suo perché a livello allora esteticamente a me piace tantissimo è fatta veramente bene sì è fatta bene ovviamente è abbastanza arrogante perché porca miseria un metro e passa di set dove cacchio te la metti in casa quindi prezzo altissimo ingombro se li se la devi mettere sì hai ragione hai ragione andiamo avanti andiamo eccolo qua questo è nuovo 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 è arrivato è fresco fresco di video review di signor Roberto Ceruti no beh l'avevamo presentato sì sì sul canale un video dedicato a lui è bello poi quando faccio i video di revisione dei set Star Wars che non ci capisco niente è veramente fantastico 650 euro signor Gio di Padulano però 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 io mi ricordo proprio dal video recensione è tanta tanta roba è tanta tanta roba allora le devo dire signor Roberto Ceruti che ho letto delle critiche su questo set mosse da alcune persone molto appassionate di Star Wars vai che me l'hanno fatto rivalutare leggermente in negativo nel senso che non è super super fedele al vero Venetor però vabbè pazienza ce lo facciamo piacere sai che cos'era mi dica vi vai no no mi dica stava finendo no 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 che comunque sia purtroppo per esempio per una persona misero mortale come me per esempio la minifigure di Cody che è contenuta all'interno di questo set è molto molto bella ecco quella è una minifigure che io nella mia potesta mediocrità non potrò mai avere ma io è che sono come mediocre che me vado a spendere i sordi per una minifigure ma spendigli sti 650 euro per una minifigure no mi ricordo una grande critica che muovevano gli appassionati di Star Wars era che porca miseria Lego per 650 euro non mi hai fatto neanche la pista di atterraggio che si apre e si chiude sopra ah bravo esatto c'era quello che era quello me lo ricordo sì effettivamente Jody porca miseria mi fai un UCS mi fai un 650 euro potevi metterlo è vero che nascono un po' come set da esposizione statici però fallo no poi entriamo nella seconda parte quinta posizione anche lui relativamente nuovo Titanic 680 euro secondo me eh set è molto molto interessante con i suoi difetti i suoi peculiarità hanno dimostrato che comunque ha un effettivo ingombro cioè set ciccio e beh però ti posso dire che non lo so io mi aspettavo con questo set magari un omaggio interessante che non è arrivato non è che poi dopo uno deve valutare il set in funzione dell'omaggio però le posso dire tutta onestà che a me costruire il Titanic non appassionerebbe granché io ho visto gente che l'ha costruito veramente soluzioni di costruzione all'interno molto interessanti molto belle però ragazzi cioè sono 9000 passapezzi da mettere insieme per avere poi solo la fine le parti estetiche fuori un po' carine divertenti no 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 assolutamente non è per me comunque quarto in classifica andiamo qua quarto posto e anche questa una boiata pazzesca una boiata non tanto per il set che probabilmente agli appassionati può piacere ma ragazzi 680 euro per la gru 2800 pezzi va bene c'ha i motori va bene ma dai e infatti è andato in sconto al 30% minimo dopo due settimane ma si ma infatti il signor Roberto Ceruti bisogna anche testedire che i prezzi raffigurati sono i prezzi di lancio ma poi dopo questi set vanno tutti rigorosamente in sconto anche di 100 euro signor Roberto Ceruti anche di 100 euro si tutti quelle ciofeche che sbagliano o per set brutto o per prezzo assurdamente elevato questo qui veramente dopo due settimane era il 30% ma che era ancora caro secondo me comunque anche a livello di pezzi se posso permettermi questo a mio parere non mi interessa cioè non è molto interessante perché ci sono questi pezzi tecniche enormi che si possono utilizzare solo per fare sta roba qua quindi quindi per me no 680 euro buttati via poi qui iniziamo ragazzi andare questo questo è il primo prodotto come vedete ritirato che non è attualmente in vendita perché è stato ritirato quindi usciva 699 ok il suo prezzo era 699 e questo è un UCS di Star Wars Star Destroyer ci sta ci sta dai si l'ho nominato tante volte diciamo lui è un'altra molte nera in lizza per tornare è tornato lui sostanzialmente perché era un po' di tempo che che non c'era quindi ma ti piace è fatto bene tutti questi studavista si 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 è un maledetto Super Star Destroyer quindi va bene ne mancano due Jody in seconda posizione che poi in realtà non è proprio seconda posizione abbiamo lui un altro set di Star Wars la TAT 850 euro 850 euro cioè ragazzi ripetetelo un attimo 850 euro eh lo so però è bello questo mi divertirei tantissimo meno male Jody meno male meno male eh signor Roberto Cerulli devo dire la verità che questo AT Walker mi mi piacerebbe veramente tanto montarlo a differenza di tanti dei set che lei ha mostrato anzitempo però oggettivamente è un'altra di quelle situazioni per cui lei mi comprende perfettamente che spende 850 euro che per un italiano medio è più di mezzo stipendio ci mette in una situazione estremamente disagevole nel senso in alcuni casi veramente si tratta di una spesa da considerarsi presso che folle signor Roberto Cerulli assolutamente d'accordo anche se sono assolutamente d'accordo con te Jody quando dici che questo è uno dei set più belli a livello di Star Wars più interessanti da costruire sono molto molto d'accordo e andiamo in prima posizione allo stesso 75192 eccolo qua il Millennium Falcon tra l'altro è ancora in vendita eh si 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 ragazzi quando è uscito fuori questo mastodonte non eravamo per niente abituati a questi prezzi cioè non c'era niente esatto di queste cifre siamo rimasti tutti quanti veramente estremamente stupidi devo dire la verità è nato poi 800 euro è vero si si però però hai ragione perché tutti questi prezzi qua come avete visto sono di set relativamente nuovi questo invece è arrivato in un momento in cui il set più costoso magari era 400 euro una roba del genere già quelli super mega abbiamo mostrato dal decimo al primo tutti i set che il Lego ha deciso di rilasciare con delle cifre spropodissitatamente alte per dei mostri dei giganti proprio dei mastodonti dei gargantueschi set che possono occupare ma perché te riesci a trovare 47 sinonimi e io al secondo mi incarto perché il mio favellare è leggermente più eloquente del tuo signor Roberto Ceruti però lei deve anche comprendere che comunque sia cioè è come un po' come si suol dire no? la cioccolata con ha capito di che cosa stiamo parlando signor Roberto Ceruti lei è una persona lei è una persona che io posso dire in tutta sincerità con questa essenza prendendomi tutte le responsabilità di ciò che vado a dire lei è una persona di un acume che io sto mi scusi signor Roberto Ceruti sto parlando allora signor Roberto Ceruti è una persona di un acume che veramente fa invidia fa invidia e fa talmente tanto invidia acume di signor Roberto Ceruti che ha dato il nome ad una marca di schede grafiche io non ho capito una cippa lippa da acume in poi mi sono perso comunque lei è J-Force ah J-Force si la conosco la conosco J-Force si ce l'ho anche dentro è contento va beh ragazzi basta noi stiamo parlando di schede grafiche stiamo parlando di questa classifica dei dieci set attualmente quale è di questi set il vostro preferito iscrivetelo nei commenti iscrivetevi al canale elaborate tutti i vostri commenti io ora dopo devo andare a rispondere a quegli altri commenti signor Roberto Ceruti ma in nuovo intanto scrivete qua il vostro set preferito all'interno di questi dieci che sono stati testegualizzati da me e dal signor Roberto Ceruti un saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ah è finito ciao ciao